Le cose che non dici, di Yuki 21, capitolo 5, buonanotte. Sasuke, sono le 21 e 30, come immaginavo a dare retta a rio ho finito con lo stare fuori tutto il pomeriggio. Non che mi dispiace più di tanto, i miei diventano insopportabili quando Takashi è in casa. Lo trattano come un oggetto prezioso, nessuno deve disturbarlo, perché, poverino, studia tanto e deve riposarsi. Quello stasera si è già organizzato per uscire col vecchio giro di amici, altro che riposarsi. Peraltro ora mi tocca pure una serata in discoteca con Rio, Kaito e Sezzona. Non è che proprio non mi diverta, con Rio non ci si annoia mai, però non so, a volte mi sembra tutto così banale. Ehi Teme, a che pensi? Eccolo che inizia di nuovo ad impicciarsi dei fatti miei. Niente di che, piuttosto dobbiamo proprio andare in discoteca stasera, perché non ce ne andiamo in un locale tranquillo a bere qualcosa. E dai Sasuke, non lamentarti sempre. In fondo, tra me e Sezzona e Rio, sei tu quello che alla fine rimedia sempre di più. Già, Kaito ha ragione. Con quell'aria da bel tembroso, tutte le ragazze della scuola gli stanno dietro e sbavano per lui. Ma che ci vedranno in te? Probabilmente quello che non vedono in te è scemo. Comunque, è solo una rottura. Ieri ho aperto l'armadietto delle scarpe e ho dovuto raccogliere non so quante lettere con dichiarazioni d'amore. Sempre la stessa storia. Che noia. Già, poverino, quanto soffri? Rio mi sfotte come al solito. Noi facciamo sempre così, siamo amici di infanzia e ormai ci capiamo anche solo con lo sguardo. Che cosa bizzarra. Alla fine siamo come il giorno e la notte. Eppure non ricordo un giorno in cui Rio non si è riuscito a farmi fare una risata. Però adesso c'è una tipa davvero tosta nella scuola. Qualcuno con cui il nostro Sasuke non ha nessun effetto. Kaito stasera è più allegro del solito. Evidentemente deve essere una ragazza in gamba, non la solita Oka. A queste parole Rio presta un'attenzione maggiore. Ha capito di chi parla Kaito e l'argomento gli interessa parecchio. La nuova studentessa. Missa sono strana King, sembra aver proprio catturato il suo interesse. Quella ragazza, effettivamente per tutta la settimana, non mi ha degnato di uno sguardo. Non che mi importi, ma devo ammettere che il mio ego ne ha risentito non poco. Non sono abituato ad essere ignorato. Non capisco cosa ci trovi Rio. La puntata dal primo giorno che l'ha vista e sta sempre lì a fissarla. Come gli va di perdere tempo così? Quasi quasi lo mando in bestia. Dici King? Sì, è una ragazza molto silenziosa. Da lunedì mi tocca darle ripetizioni di matematica, educazione tecnica e informatica. Spero non mi faccia perdere tempo. Tu vedi di essere un bravo insegnante, Sasuke. Quella ragazza è intelligente, ci metterà poco per recuperare. E così puoi dover darci ripetizioni insieme. Ha una faccia che è tutto un programma, questo scemo. Però mi fa ridere come sempre. Ripetizioni? Tutti e tre? Ma di un po', mica sarà un linguaggio in codice per dire che volete fare qualcosa in tre. Qualche giochino sessuale in cui la fanciulla si trova ben bene nel mezzo. Kaito, sei un pervertito. Io certe cose con Ryokun non le faccio. E prendo per il collo il mio migliore amico spettinandolo come faceva un tempo Takashi con me. Allora Sasuke, fai il bravo con Reikachan, perché vedete, mi imbarazza dirlo, ma ho deciso di dichiararmi a lei. Ci mancava anche Setsuna a sparare stronzate. Ed ora, chi lo regge più tardi Ryo che mi chiama in piena crisi di panico? Fa come ti pare, Setsuna, però aspetta qualche giorno, giusto il tempo di vedere se hai intenzionato a studiare davvero o solo perdere tempo. Se me la distrai prima ancora di iniziare, ci faccio una figura del cazzo ai professori. Ryo sospira sollevato. Me ne devi una, amico. Ok, ma solo qualche giorno, la forza dirompente del mio amore non può tacere per troppo. E ridiamo tutti e quattro mentre entriamo in discoteca. Magari la incontriamo proprio qui questa sera. Del resto, questo è un locale più alla moda di Tokyo, anche se quella non mi sembra il tipo da frequentare certi posti. Inizio a pensare che Setsuna abbia ragione. Quella ragazza è una tosta. Forse persino per me. Ryo Sono quasi morto quando Setsuna ha detto di volersi dichiarare a Rei-chan. Meno male che Sasuke è intervenuto. Cavolo, è in classe nostra da solo una settimana. Diamole almeno il tempo di ambientarsi prima di saltarle addosso. Fatto sta che stavolta dovrò correre più in fretta del solito perché non so, ma ho come l'impressione che se non mi sbrigo, Rei-chan volerà via come una farfalla. Quanto mi piace un sacco quella ragazza. Hiroshi Mi dispiace ammetterlo, ma sono contento che Dazai abbia avuto un invito improvviso questa sera, al quale non poteva rinunciare. Meglio così. Non che mi sia annoiato tutto il giorno in sua compagnia, ma ormai sono in ansia. Lei non mi ha mai dato nemmeno un messaggio per tutta la giornata. Sono sicuro che è successo qualcosa e che per quanto so che è sbagliato, mi sento in colpa per non averla ancora sentita oggi. Odio questa sensazione. Io non sono responsabile di Reika, ma le voglio un bene immenso e non sopporto che stia male. Ma non è solo questo, lo so. Ultimamente ci ho pensato tantissimo e so che anche io sono intorto nei suoi confronti. Ho fatto di tutto per farla venire nella mia scuola e per convincerla a riprendere gli studi, perché penso sia la cosa più giusta per lei. Ma l'ho fatto anche perché la voglio vicino. La spingo a farsi nuova amicizia, ma in realtà desidero che corra da me e me soltanto quando ha un problema. Eguisticamente mi piace che sia un dipendente da me. Mi piace che mi guardi con ammirazione. Che ci sia sempre. È così bella e intelligente. È un'artista della musica. Vorrei vederla sorridere sempre. Vorrei che il suo sorriso più dolce fosse solo per me. Questi pensieri non fanno di me un vero amico. Non so esattamente cosa fanno di me. Ma quando penso a Reika, io la sento solo mia. Questo non è giusto. Sbaglio. Ma nonostante ne sia cosciente, sono in auto e sto andando da lei, perché ora il mio amante è lontano. Non vedo l'ora di vederla. Reika, ma che voglio davvero da te? Reika. Sto venendo a casa tua, ci sei? Un messaggio di Iro finalmente. Ho la borsa già pronta. Dentro ci sono l'occorrente per la notte, indumenti per domani e la divisa per lunedì. Conto che Max sia sparito di nuovo entro martedì. Prego perché lo sia. A Hiroshi ho scritto di non bussare alla porta e di aspettarmi fuori. Mentre esco dalla mia camera, faccio attenzione a non fare rumore. Arrivata giù, mi affaccio leggermente sul salone e lo vedo. È crollato sul divano. Dorme di brutto. Esco silenziosa da casa e vedo che l'audo di Irocone è già qui. Spero non abbia corso troppo per colpa mia. Deve stare attento, è un ragazzo prezioso. Non voglio che gli accada mai nulla di brutto. Entro in auto silenziosa, stringendo al petto la mia borsa da fuga d'emergenza. Lui parte senza dire nulla. Facciamo un poco di strada e mi rendo conto che stiamo andando direttamente a casa sua. Gli ho rovinato il weekend. Che impiastro che sono. Quando è rientrato? Saranno state le 19 circa. Non l'ho sentito, stavo suonando. Che ti ha fatto? Non rispondo. Lui non insiste e dopo poco siamo a casa sua. Mi prende la borsa dalle gambe e mi facendo di seguirlo. Entriamo in casa e non sento nessuno. Giro mi dice che i suoi sono fuori per un viaggio e che saranno via per qualche giorno. Il tuo ragazzo? Non è il mio ragazzo, è il mio professore d'arte. Vieni, andiamo in camera. Andiamo nella sua stanza. Iroh inizia a spogliarsi. Faccio lo stesso anch'io. Non c'è nulla di strano o anomalo. È sempre stato così, senza imbarazzo, senza falsi pudori, senza problemi di sorta. Entrambi ci mettiamo i rispettivi pigiami e ci infiliamo sotto le coperte. Giro accende la tv e lascia su un film già iniziato. Io muta, mi avvicino a lui e appoggio la mia testa sulla sua spalla. Restiamo così fino alla fine del film. Non è particolarmente tardi. Sarà da poco passata la mezzanotte ed è sabato sera. Nonostante ciò, questo ragazzo meraviglioso spegne la tv e mi rimbocca le coperte. Poi mi avvolge in un abbraccio baciandomi una guancia. Lentamente e dolorosamente inizio a lasciarmi andare, solo poche lacrime perché la maggior parte le ho già versate in passato. Giro non mi ha detto niente, non ha fatto altre domande. Mi ha solo abbracciato cullandomi e augurandomi la buonanotte. E lo è. Nonostante il marcio della mia vita tra le sue braccia, è una buonanotte. La mia vita tra le sue braccia, è una buonanotte.